È separato da poco, però ha un sogno. Vorrebbe diventare un separato, quindi un divorziato ricco. Gianluca Giuliarelli. Grazie, vi descrivo... Tu Paola, sai, io da divorziato so poverissimo. Appunto. Intanto vi spiego io da divorziato. Complimenti per... Tu non c'hai due corde, c'hai due discoteche. Vi spiego la mia vita da divorziato, vi spiego il sogno che ho fatto. Allora, io mi sono separato dopo 13 anni di matrimonio, no? Tu dirai, hai sofferto tanto. 13 anni. E adesso che sono divorziato soffro ancora di più. Perché un terzo di quello che guadagno lo devo dare a mia moglie per l'assegno di mantenimento. Un altro terzo di quello che guadagno lo devo dare a mia moglie per le spese straordinarie. Io quando in televisione dicono, è iniziata la ripresa, pensa oh, è morta mia moglie. Oltre... Oltre a tutti questi soldi, mia moglie mi ha levato anche la casa. Io ho passato la vita a mettere inferiate, antifurti, cani da guardia, erladro, ciave o dentro. E non mi ha levato soltanto la casa in città, mi ha levato anche la casa al mare. Perciò l'estate mia moglie dorme a casa mia con vista sulla spiaggia, io dormo sulla spiaggia con vista su casa mia. Allora immagino, se fossi ricchissimo, se avessi barche, macchine, cavalli, case, intanto mi metterai in tono, direi delle cose, che ne so, direi, pensa Paola, stamattina ho litigato con mia moglie. Stavamo facendo colazione, a un certo punto mia moglie mi fa, il latte fa male. Dico, come il latte fa male? Sì, il latte fa male. Prova con il latte di mandorla. Ci ho provato. È che non riesco a mungere la mandorla. Ma poi me lo dice a me che ho le mucche in Svizzera, e in Svizzera ci vado con il mio SUV, extra lusso. Soltanto che mia suocina, che me deve rompe, ci ha fatto montare i vetri fumè. Soltanto che l'ha fatto montare il contrario. Quindi io non vedo niente e gli altri si fanno affari miei. Pensa, ma... Ma io c'ho una barca enorme, in cima c'è una piscina olimpionica. Mia suocera, che me deve rompe, ha preteso che questa piscina visse riempita con l'acqua del rio delle Amazzoni. Io per accontentarla ci ho messo anche i piragna. Mia suocera si è fatta il bagno. All'appello mancano sei piragna. Pensate, quest'estate, quest'estate mia suocera stava prendendo il sole in due pezzi. Uno spettacolo rivoltante. Due piragna, pur di non guardarla, si sono magnati da soli. E mia moglie, che è mia suocera, me deve rompe, mi deve portare a mangiare nei ristoranti etnici. L'altra settimana mi ha portato nel peggiore, il ristorante coreano. È vero che cucinano i cani. Il cameriere, invece del menù, ci ha portato il pedigree. C'era scritto, Bobby alla cacciatura. Bobby alla diavola. Bobby a scottadito. Bobby in umido. Senza contorno. Bobby solo. Ma la cosa peggiore è che sull'entrata del ristorante non c'era la classica faccia del cane. E sotto ha scritto, io non posso entrare. C'era scritto, io non posso uscire. Che poi voglio bene, cari. Pensa, a mia moglie le regalai un cagnolino. Soltanto che siccome lei è ipocondriaca, gli ha fatto fare 48 vaccini. Tutti su la coda. Tutti sono. Gli ha fatto la coda vaccinare. E adesso mia moglie ha preteso il tatuaggio. Ha fatta vista, oh? Belen ha tatuato la farfalla. Io, per non essere da meno, ho fatto tatuare a grandezza naturale su mia moglie Belen. E ho fatto tatuare a grandezza naturale su mia suocera la farfalla. Tu ti chiederai perché? Perché la farfalla vive un giorno solo. E comunque la relazione tra me e mia moglie sta prendendo piede. Pensate, il mese scorso sono diventato papà. Bravo! Mia moglie aveva paura che la gravidanza l'avrebbe smagliata, l'avrebbe ingrassata, l'avrebbe deformata. Invece non è ingrassata neanche di un chilo. Voi vi chiederete, ma com'è possibile? Perché io ho fatto con altra. Per farmi perdonare ho portato mia moglie in crociera col mio yacht. Per stasicuro mi sono portato anche due escort brasiliane. Una religiosissima immacolada, l'altra sempre embriaca, pignacolada. Mia moglie si è risentita. Ma come? Vieni in vacanza con me, ti porti due escort. Ma tu mi dovresti amare come il giorno in cui ci siamo conosciuti. Ma il giorno in cui ci siamo conosciuti? Io stavo con due escort, tu eri una dei due, ma che fai? Grazie! Evviva l'amore! Gianluca Giuliani. Lo sai, i colori della bandiera italiana rispecchiano esattamente come se sentono gli italiani. Al verde, in bianco e col conto in rosso. Gianluca Giuliani, grazie! Grazie, grazie!